Oggi non è una giornata come le altre per tutti quanti gli emittenti sportivi, per tutti quanti i giornalisti sportivi e non solo. Perché nel nostro podcast notizie prima di tutto oggi ricordiamo Franco Lauro, giornalista di Rai Sport che fino al giorno di domenica ha condotto il telegiornale sportivo tutti quanti hanno voluto ricordare il giornalista Franco Lauro, ricorda Riccardo Cucchi sui social un amico non ci credi quando squilla il telefono e ti dicono che un infarto se l'è portato via così oggi un abbraccio alla famiglia di Franco Lauro, so quanto amavi questo lavoro e così ha ricordato Riccardo Cucchi, uno dei grandi giornalisti di Radio della Rai e di Radio Rai 1 lui era un grande giornalista Franco Lauro, lo abbiamo visto soprattutto nelle grandi pre e post partita di calcio voi ve lo ricordate tutti quanti pochi mesi fa anche Paola Ferraro o che ieri ha scritto ho appena avuto una notizia tremenda, un amico con cui abbiamo diviso così tante avventure non posso crederci e poi anche Massimo Caputi, Roberto, tutti quanti e tante sono le condoglianze che tutti hanno anche fatto, anche in primis il sottoscritto Daniele De Conno che ieri attraverso i social Facebook, la pagina Facebook e il profilo Twitter si è andato a 58 anni il giornalista Franco Lauro che nella mia infanzia ha raccontato tantissimi eventi sportivi del calcio al basket, anche in un piede di Torino Miese ciao Franco, un giorno spero di diventare un grande giornalista come te quindi Massimo Lauro ha veramente accompagnato tantissime generazioni pochi mesi fa per chi ha seguito molto il calcio, lo ha visto commentare pre e post partita della Coppa Italia adesso ha commentato l'ultimo tg sportivo domenica su Rai News 24 ma noi torniamo ai nostri quotidiani perché partiamo dalla parte centrale della gazzetta dello sport esclusivo la bandiera e il Milan Maldini detta le sue condizioni Paolo vuole chiaramente un ruolo decisionale, non di frecciata sul mercato è l'allarme, è l'allenatore, la palla ora passa al club rosso-nero sulla parte sinistra della gazzetta sport oggi riunione in federazione serie A in una bolla il piano per ripartire per max ritiro di tre mesi per quasi 1500 persone tutte le idee per Champions, mercato e nuove regole la polemica Pellegrini dura, si parla solo del calcio riapriamo per noi olimpici Federica ha la forza di pensare al domani e poi a parte bassa anche il tour va in fuga pronta a partire il 29 agosto sulla parte sinistra, sulla parte bassa a destra Lautaro che fai? e Conte cerca gol tra Griezmann, Aguero e Giroud poi già rinnovati contratti e Rosa doppia la Juve, gioca sempre d'anticipo e la parte alta Lapo creatività e cuore così l'Italia rinascita poi andiamo sul Corriere dello Sport la parte centrale tutto pronto le leghe top e la UEFA unite andiamo avanti e la FIGC si prepara ad andare via il silenzio degli agnelli in basso scusate se parlo senza sapere sempre altro articolo oggi si riunisce il Consiglio Federale di Lega verranno prese in esame varie ipotesi di calendario ma sempre partendo il 31 maggio Rezza ha giusto il tiro le decisioni sulla ripresa spetta alla politica la parte destra della parte centrale le nostre interviste di Francesco Zaniolo un gioiello così l'ho guidato l'ex sanatore di Roma e Sampdoria a tutto campo De Rossi e Totti erano con me davvero opporni alla cessione di Strotman sempre in basso tardè il calcio adesso deve aiutarsi da solo il campionato del mondo lancia la sua proposta Laic avrebbe dovuto istituire un fondo solidarietà partecipando alla riduzione del danno e poi con le cinque istituzioni sale il vantaggio della Juve se l'IFAB come sembra darà il via libera all'aumento dei cambi per Sarri sarà tutto più facile nessun tecnico ha a disposizione una cosa così forte e ampia a parte bassa lo sfogo la rabbia di Federica non c'è solo il pallone la Pellegrini chiede più attenzione quando si parla di riapertura non si possono ignorare gli altri sport e sempre in basso ma sulla destra il turno non si arrende a partenza del 29 di agosto in alto recessione da pandemia l'Italia pagherà il prezzo più alto più alto poi andiamo a tutto sport prima di leggere la parte centrale addio Lauro il signore la tv sportiva poi la parte centrale alla fine vinciamo noi intervisto sia Stefano Bonaccini presidente della regione Emilia Romagna e tifoso bianco nero in un momento così difficile l'unica risposta possibile è rimanere uniti come mi ha insegnato la mia Juve amo quella del 1997 vinse la Coppa UEFA con una rosa tutta italiana esclusiva sempre sulla parte centrale ma sulla destra esclusiva ecco come può ripartire la Serie A 31 maggio 4 copri dal 4 al 21 giugno sei giornate con ogni due giorni sabato, domenica, martedì e mercoledì alle ore 15 alle ore 18 alle 21 dal 24 al 12 luglio sei giornate con magari ogni tre giorni sabato, domenica, domenica, martedì e mercoledì giovedì alle ore 18 alle ore 21 Rezza il rischio zero nel calcio non esiste poi in basso Morosini a Atalanta da 8 anni vicini alla famiglia sotto la notizia di la Franco Lauro di Bala rinnovo a vita la Juve e Gioia preparano un cospicuo prolungamento del contratto attualmente in scadenza del 2022 poi coloriamo Torino di Granata la proposta del Toro Club celebriamo il 4 maggio basilica di superga chiusa bandiere sui balconi poi sulle storie del di tutto sport il l'esultanza di Ravanelli il bomber mascherato e poi 1996 derby di rigore io nell'Olimpo inter 2006 inter 2009 veleno mu vai pure Ibra ma vincerò io 1987 colpo da romanzo Giuliette Milan ciao ciao Juve storie di donne di guaccia che idea prince perugia i 70 formula 1 lotus hill rivoluzione queste sono le storie del di tutto sport di tutto sport passiamo sul quotidiano sportivo andiamo per il momento in alto perché notizia che interessa tutti noi giornalisti tutte le radio web eccetera eccetera sporti in lutto morto franco lauro e rivorto e le rai per basket e calcio parte centrale in 5 mostre per la ripartenza tamponi clausura trasferte quarantena e porte chiuse ma sileri inverosimile che si torni a giocare accanto alla parte centrale ciclismo come date il tour dal 29 agosto causa per i mondiali il giro resta a 8 brain basso di quotidiano questo è quotidiano sportivo il tema per le green non c'è solo il calcio e l'asta raccoglie 66 mila euro andiamo sul Roma sul Roma Nissa a parte di Italia è la mia la mia maglia eros infermiere in lotta contro il codice 9 Giuseppe Albano ha tratto energia dalla sua passione per la Roma la scritta sulla tuta mi ha dato la carica per affrontare questa battaglia è stato come indossare la divisa della squadra per mio figlio l'ho rifatto col 9 di Geco il mio lavoro mi rendo orgoglioso quello che il club fa per tutti noi è splendido anche per chi non lo tifa poi in basso ma che calcio dite ecco i protocolli arriva il parere dei saggi oggi la commissione medico scientifica presenta in federcalcio l'elenco degli esami preliminari per riprendere gli allenamenti costo per ogni club 40.000 euro poi in allora e poi noi abbiamo voluta leggere sempre prima ma questo volta no in basso sulla sinistra il lutto addio all'auro volto di Rai Sport poi a campi FIFA la FIFA tempi incerti per la ripresa sopra in sempre sulla destra in basso inossidabile Corrov come CR7 messi tra i vecchietti al top e sulla sinistra sempre in basso coronavirus meno pazienti in terapia intensiva ma 600 due morti quanto manca all'avvio del progetto stadio 2.936 giorni a progetto del nuovo del nuovo stadio praticamente allora vediamo cosa succede si parla sempre del calcio noi oggi abbiamo pochi abbiamo i temi i giornali perché oggi noi non andiamo pimpanti con l'accade oggi questa smissione è in tutta in basso siamo bassi per il ricordo di Franco Lauro quindi questa puntata non è è pimpante come al solito quindi ricordatevi l'accade oggi non ci sarà l'accade oggi ancora andiamo avanti perché vogliamo come dice anche il tutti i giornali parlano di serie di serie allora io vi dico si parla campionato senza partite al nord è una possibilità lo ha detto Gravina si ma lo dice Gravina niente partite al nord l'obiettivo è sempre lo stesso ma anche sfumatore di est ha detto Milano Brescia Cremon un campionato senza partite al nord è una possibilità ma la Juve non vuole e le sue posizioni è apprezzabile il titolo si vince sul campo l'ha detto proprio la Juventus allora quello che voglio dire io una cosa importante è che quello che succede soprattutto nel calcio è che si vuole rigiocare la Pellegrini poi è una cosa che ha detto e mi piace che si devono allora prendere in considerazione tutti quanti gli sport e non solo il calcio ha detto bene la Pellegrini e sono d'accordo con lei perché se tu riprendi il calcio poi devi prendere basket devi prendere rugby anche il nuoto e se il rugby il volley e il basket hanno abbandonato hanno chiuso il campionato perché perché erano troppi corpo a corpo nel basket c'è quando si va subito a canesso si toccano i giocatori c'è nel volley con il muro non ci sono i metri di distanza il rugby proprio devi toccarti proprio i placaggi e allora questo non si potrà neanche fare tutti questo è stato detto oggi c'è la decisione della della FIGC che verrà anche anche presa questa decisione allora una decisione importante e con questo noi vogliamo anche dire questa notizia perché si parla di coronavirus parliamo anche di Djokovic perché praticamente Djokovic ha fatto un'azione per Bergamo praticamente generale ASST generale dell'SST di Bergamo Ovest Peter Asselenberg in una servizia della smissione a porta a porta condotta Bruno Svanocco Djokovic non smette di stupire la sua generosità le persone più generose sono quelle che si prodigano per gli altri in sordina senza farsi pubblicità e senza fare ciò che fanno anche Djokovic ha donato un milione di euro alla sua Serbia ha fatto un'ingente donazione esenziosa anche a questo ospedale italiano l'ospedale italiano e allora tutti quanti noi tutti quanti noi e allora questo si dice ci sono tante novità per quanto riguarda un po' il mondo ieri ieri si è anche oltre parlato di formula 1 ma noi ne parleremo più in più in avanti allora andiamo con le altre notizie che parlavano anche i vari quotidiani si è parlato del mitico ieri ne avevamo parlato del del tour del tour de france è stata proprio l'ufficialità che si correrà si parte il 29 agosto agosto alla 20 settembre il giro rimane sempre prima quest'anno volta viene dopo il tour de france tour de france maglia gialla la maglia davvero più bella che ci sia perché tutti quanti la vogliono e quella a noi italiani tutti quanti dicono si vogliamo la maglia la maglia la maglia rosa noi italiani perché è più bella ed è molto importante abbiamo introdotto quelli che sono diciamo i temi del di tutto quanto lo sport perché abbiamo parlato tutto al centro il coronavirus si alcegne poi intorno gli sport e che cosa si farà più avanti però quello che ci non ci piace di più è il fatto che si va a giocare vediamo oggi che cosa si dirà in che cosa si dirà in federcalcio però quello che anche aveva detto anche tutto sport in pagina iniziale esclusivo poi ripartire dal 31 maggio si potrebbero fare 4 copertà dal 4 al 21 giugno 6 gare ogni 2 giorni diciamo sabato domenica martedì mercolì alle 15 alle 18 alle 21 cioè dal 24 al 12 giugno 6 giornate con 6 giornate ogni 3 giorni sabato domenica martedì mercolì giudì dalle 18 alle 21 ma come possiamo pensare che tutti i giocatori ce la fanno a fare queste partite io lo ribadisco ancora oggi una volta ancora oggi perché voglio dire non dobbiamo dare vinta soprattutto a chi vuole continuare perché anche se dobbiamo continuare bisogna anche capire come si deve ripartire perché tu sei allora dal 4 al 21 giugno sei giornate cioè gare ogni due giorni gare ogni due giorni da 24 al 21 6 giornate ogni 3 giorni se dal 4 al 21 sabato domenica martedì mercolì sono qua 6 giornate ogni 2 giorni sabato domenica sono 2 giorni e c'è in totale 4 giorni 6 giornate ogni 3 giorni sabato domenica lunedì martedì mercolì giovedì 6 giorni contro i 4 dal 4 quindi è una follia pura lo ripeto è una follia pura far continuare il calcio follia pura perché non si possono fare tutte queste giornate c'è anticipato la prima magia di tutto sport e io dico la verità dico che questa è sempre solo follia pura se avete il calcio vuole ripartire ripartisse anche a stati vuoti però è una follia per i giocatori se si fa male un giocatore se si fa male o se un giocatore praticamente si fa male un giocatore se un giocatore non sta bene diciamo fisicamente deve comunque giocare e allora diciamo diciamo il campionato diciamo facciamo diciamo valerlo scudetto lo scudetto sia in A che B in B in B e in C che abbiamo un po' trascolata non si sa come ripartire perché in B ci sono oltre alle gare ci sono playoff e playout in B e in C quindi la prima va avanti in B le altre le altre sono tutti playoff dalla seconda in poi fino alla ottava non ma poi devo dire che della classifica di B dalla allora dalla diciamo non si possono dire più o meno queste cose perché le due Benevento e Crotoni andrebbero come si stanno le cose in Serie A ma se si potrebbe continuare Frosinone Pordenone Spezia Cittadella Salernitano e Chievo queste sei squadre la terza devono comunque se arrivano alla fine giocarsi i playoff per la terza in Serie A ed è difficile fare questo mentre se i tramani vanno via Venezia e Cremonese non c'è finale playoff comunque un rischio è un rischio ma andiamo a vedere anche la serie la serie C la serie C perché in Serie C sono tre gironi in in Serie C sono tre i gironi ma perché sono tanti diciamoli i gironi perché per esempio in questa stagione passerebbe la regina ma il Bari Monopoli Potenza questo è il girone C andrebbe la regina ma il Bari Monopoli Potenza Ternana Catania Catanzaro Virtus Francaveli e per il momento Avellino tutti i playoff tutti i playoff i play out Picerno Sicula Leonza Bicea play out Picerno Sicula Leonza Bicea Renni Ma come volete che tutte queste squadre si giochino play out e play off dopo che sia giocata la stagione e allora noi vogliamo ma io non parlo parlo di serie questa è la serie C girone serie C del girone C ma il girone A ve lo presento ve lo sto presentando il girone A e anche il girone B per farvi capire come possono andare le varie classifiche diciamo perché se andiamo in ordine alla C se ve lo voglio dire il l'area al Vicenza ma in poi il Reggio aud 6 il Carpi il Subtirol il Frera Pisalò il Pado al Vicenza Mona il Trestine e Fermano devono giocare i play off ma in play out Ravenna Imolese Arzano Valchiampo e Alma Juventus Fano io voglio dire non voglio dire questo ma voglio soltanto e voglio soltanto dire che sono veramente sono veramente cose difficilissime ma io mi spiace a tutti quanti perché perché sono cose davvero diverse il girone A il girone A il girone A faccio un esempio Monza andrebbe in A andrebbe in B scusa Cremonese Carrarese chiedo scusa Renate Pontedera Siena Alessandria Albino Neffe Novara Lezione dosander 23 i play out i play out Pergolettese Gianna Erminio Olbia Pianese e come si possono giocare la B e la C in questo caso noi ce lo siamo chiesti e ce lo chiederemo in questo caso come sono praticamente allora e allora per le classifiche davvero interessanti che ci sono sono tante ma io non voglio non voglio voglio semplicemente dire non voglio farla non voglio farla dura ma io dico la verità allora quello che dicevamo è diverso perché la se riparte può ripartire ma cose davvero diverse allora io vi rassicuro che questa è una cosa davvero che va indigesta a tutti di far ripartire ma la sera vuole ripartire e si vuole ripartire la B la C la D non la B la C e la D non sapremo ma parliamo di Formula 1 virtuale perché ieri si è giocato ci sono giocate le race the world giocate online le gare fuori allora gli altri GB virtuali Leclerc ha vinto ha vinto praticamente vince gara 1 a Spa e gara 2 la vince a Bacu la vince Albon la vince Albon sono state le gare di ieri le gare importanti e quindi bisogna anche capire come si potrebbe fare con gli altri appuntenti che poi ci sono domani ci sono nei prossimi giorni ne ho già anche annunciati ieri però queste cose spettacolari che si fanno in che si fanno in se in formula 1 sono davvero cose belle e eccezionali e sono davvero belle da vedere lo consiglio a tutti formula 1 e sport e moto gp e sport e anche tutti quanti anche le sport virtuale di altre di altre categorie sport anche calcissi che sono molto belle noi vogliamo vogliamo il vogliamo adesso noi salutarci con con un ultimo ricordo a Franco Lauro perché Franco Lauro giornalista davvero d'eccezione ci ha raccontato ve lo voglio dire nel 2004 la semifinale dell'Italia al basket e la finalissima dell'Italia contro l'Argentina noi vogliamo salutarci perché anche se una noi stiamo ricordando in questa trasmissione tanto ci dispiace per lui perché andarsene così un giornalista così bravo sempre nei programmi sempre giacca cravatta sempre distinto in tutto e questo deve essere il giornalista essere come Franco Lauro l'impostazione essere come Franco Lauro Franco Lauro ci ha regalato tanto nel mondo basket calcio anche ha fatto un'olimpiade ha commentato tante cose vogliamo noi lo salutiamo con un ricordo un bel ricordo Franco Lauro quando ha commentato la nostra la nostra Italia e lui ha ha commentato l'Italia quando vinse il campionato d'Europa di basket al commento molti anni fa lo ha commentato in commentiera di Franco Lauro commento bello straordinario perché oggi si tutti quanti potete fare telecronica di basket ma lui ha commentato molte moltissime partite di basket perché lui ci ha dato dire ci ha aiutato a vivere il basket in una media diversa il calcio il calcio in maniera sono maniere diverse completamente due sport diversi ma lui gli ha resi due sport nobili anche se il calcio è diverso ma gli ha fatti rendere due sport davvero nobili nobili perché Franco Lauro era un giornalista sempre attento a ogni minima virgola sempre giacca e cravatta e lui ha regalato molto ciao Franco sei stato uno dei grandi giornalisti sportivi che la RAI ha potuto avere e che in questi ultimi mesi prima della pandemia ci hai raccontato molti eventi sportivi con i pre post partita e domenica hai raccontato il tuo ultimo telegiornale questo vuol dire che tutti dobbiamo essere come te dobbiamo amare il lavoro come l'hai amato tu non solo quello di giornalista ma tutti quanti dobbiamo amare il lavoro come l'hai amato tu ciao Franco e speriamo te e qualcun altro giornalista può essere come te e possiamo avere un altro o un altro Franco Lauro nel mondo del giornalismo grazie a tutti